Ho scelto questo passo da uno dei miei romanzi preferiti, forse il romanzo più bello di tutta la letteratura, perché rende bene uno stato d'animo che talvolta mi è capitato di provare quando in mezzo alle difficoltà della vita, ai momenti di tensione o di passione, a un certo punto uno si ferma, guarda il cielo e per un attimo riesce a fermare tutto, ad avere l'impressione che si possa andare soprattutto, fermarsi, guardare la bellezza dell'universo e forse anche per un attimo essere felici. Mi chiamo Francesca Tasso e ho scelto questo brano da Guerra e Pace. Era un tempo ghiacciato e chiaro. Sulle strade fangose e mezzo buie, sui tetti neri, c'era un cielo oscuro e stellato. Pierre, soltanto a guardare il cielo, non sentiva più l'offensiva bassezza di tutte le cose della terra a paragone dell'altezza dove si trovava l'anima sua. All'entrata della piazza di Arbat un enorme spazio di cielo stellato e scuro apparve agli occhi di Pierre. Quasi a metà di quel cielo, sopra il corso Precinstensky, circondata, avvolta da tutte le parti di stelle ma distinguendosi da tutte per la sua vicinanza alla terra, la sua luce bianca e la lunga coda levata in alto, c'era l'enorme luminosa cometa del 1812, quella stessa cometa che annunziava, come dicevano, ogni sorta di sventure e la fine del mondo. Ma in Pierre, quella splendida stella con la sua lunga coda raggiante, non risvegliava nessun senso di paura. Al contrario. Pierre, con gli occhi umidi di lacrime, guardava quella stella lucente che, dopo aver percorso con indicibile rapidità a spazi incommensurabili, secondo una linea parabolica, a un tratto, come una freccia che si affonda nella terra, pareva essersi infissa in quel punto da essa scelto nel cielo nero, ed essersi fermata sollevando energicamente la coda, scintillando, e giocando con la sua bianca luce tra le innumerevoli altre stelle sfavillanti. A Pierre parve che quella stella rispondesse pienamente a ciò che era nella sua anima, raddolcita e fortificata, che si schiudeva a una nuova vita.